A questo punto l'interrogazione di Luciano Ralli, a me destinate per conoscenza al sindaco e al segretario generale del Comune di Arezzo. Prego, consigliere Ralli. In data 23 gennaio ho ricevuto, come tutti noi consiglieri comunali, una mail contenente una lettera anonima protocollata dal Comune di Arezzo. Personalmente io non ho piacere quando ricevo le lettere anonime e generalmente le straccio, però questo non lo può fare in tutte le situazioni un Comune come il nostro. Mi immagino che abbia una procedura doc per tali tipologie di posta in arrivo e poi ne deduco inoltre che lei, Presidente, abbia avuto buone motivazioni per estendere tale lettera a tutti i consiglieri comunali. Una lettera anonima inviata a tutti i consiglieri comunali di Arezzo e alla Procura che riguarderebbe l'operato di un'azienda partecipata del Comune di Arezzo. A richiamare quanto è accaduto nei giorni scorsi e dunque a renderlo pubblico durante il consiglio comunale di oggi è stato il capogruppo del Partito Democratico, Luciano Ralli, che non è entrato nei contenuti della lettera ma ha chiesto rassicurazioni in merito al percorso di legge che in questi casi si deve seguire. Non faccio riferimento in questa sede ai contenuti della lettera anonima che comunque riferisce aspetti della gestione di un'azienda partecipata dal Comune di Arezzo. Volutamente non voglio dare pubblicità ai contenuti della lettera anonima. Come avrà notato però la lettera ha in indirizzo tra gli altri anche la Procura di Arezzo, perciò oggi sono a chiederle se lei, presidente del Consiglio o l'amministrazione comunale, abbia già provveduto a verificare se la Procura abbia o meno ricevuto la lettera. Se così non dovesse risultare, ritengo che sia opportuno che l'invio in procura lo faccia il Comune con una delle figure a cui è indirizzata la mia interrogazione, presidente del Consiglio Comunale, il sindaco di Arezzo, il segretario generale, tra l'altro anche responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza. Perché vede a questo punto la lettera anonima è arrivata nel nostro Comune, è stata protocollata, è stata inviata a tutti i consigli comunali, ovviamente non credo si possa far finta di nulla. A rispondere in aula è stato il presidente del Consiglio Comunale, Luca Stella, che ha ricordato che le lettere anonime che giungono al Comune sono raccolte in uno specifico elenco e inoltrate tutte alla Procura della Repubblica. Per quella oggetto dell'interrogazione di Ralli, conferma Stella, è già stato provveduto in tal senso. Non credo che si possa far finta di nulla, infatti non possiamo far finta di nulla. Una lettera protocollata indirizzata al Consiglio Comunale era il mio dovere girarla ai consiglieri comunali. Con lo stesso criterio l'amministrazione comunale ha provveduto a trasmettere a tutti gli uffici competenti, quindi il patrimonio, il rezzo caso, tutti quelli competenti per questa lettera, oltre che a trasmetterla, a prescindere dall'indirizzo che c'è una cosa, alla Procura competente.